L'immigrato come risorso e non non come straniero sinonimo di illegalità. E' questo il messaggio principale emerso durante il confronto multietnicità e integrazione sociale, consapevolezza e confronto organizzato dal Popolo delle Libertà e dalla SAFI, l'associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile immigrata. Durante il convegno si sono alternate diverse storie, storie raccontate da chi, da immigrato, vive nella nostra terra, nella nostra provincia e ha trovato qui il futuro. Tutti interventi che hanno puntato sull'importanza della cittadinanza per gli stranieri. Infatti ancora oggi un figlio di immigrati che nasce in Italia non ottiene la cittadinanza, una questione per la quale ci si sta battendo. Io credo che un bambino che nasca in Italia e che anche da genitori stranieri abbia il diritto di vedersi riconosciuto la cittadinanza italiana, nel senso che studierà per essere un italiano, saprà parlare e apprenderà la nostra lingua nella scuola, quindi deve essere considerata a tutti gli effetti un italiano. Credo che oggi parlare di una cosa diversa da questa sia fuori da quello che è il mondo reale che si presenta non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. Il Presidente Castiglione a conclusione dei lavori ha parlato dell'esperienza del Centro Accoglienza di Chiedente Silo di Mineo. Presidente, l'esperienza del cara di Mineo può essere considerata una scommessa vinta? Quella che sembrava una scommessa impossibile oggi è una realtà, è una realtà sul piano dell'integrazione, sulla mediazione culturale, sulle attività che all'interno del centro stiamo svolgendo, dall'addestramento ai corsi di italiano, alle nuove politiche. Io ritengo che l'esperienza del centro di Mineo debba servire anche a creare una cultura dell'accoglienza nella nostra città, nella nostra provincia, a creare quella cultura dell'integrazione e soprattutto guardare alle nuove città, le nuove metropoli per nuove politiche sanitarie, nuove politiche sociali, nuove politiche scolastiche, nuove politiche del lavoro. Quindi da un'esperienza figlia dell'emergenza, un'esperienza che poi porta all'integrazione.